Un film ti emoziona, ti diverte, ti commuove, ti ama. Amalo anche tu nella sua veste originale, con suoni, immagini, colori tecnicamente perfetti. Cercalo in sale cinematografiche selezionate su emittenti televisive che ti diano garanzia di qualità e su videocassette originali contrassegnate e siali. Combatti anche tu la piaga della pirateria audiovisiva. Crittazione eseguita! Ci siamo intromessi nel segnale! Standby a tutte le gastronave autoprodotte! Mi sentite? E regà tutti pronti! Tutta la soppa in codice standby! Siamo pronti! 3, 2, 1, capitano! In onda! A tutti coloro che ci stanno ascoltando, è un piacere per noi annunciarvi un nuovo attacco al mercato istituzionalizzato dell'audiovisivo. Siamo stupati di perdere tempo! La sconfortante realtà che ci circonda non lascia altra scelta che immettere direttamente il segnale nei vostri videoduplicatori. Quanto tempo ci rimane ancora? Continua pure! Non ci hanno ancora il terro scettato! Siamo in uno spazio libero! Noi viaggiatori del tempo? Non vogliamo essere soggetti a censura o copyright? L'anticopia! È un crimine! A direttore! Avemo intercettato gli autoprodotti! Che dovemmo fare? Beh, ha attivato lo scanner digital in culo e spiateli, madonnina! Questo è un video autorealizzato, dal momento delle riprese del montaggio fino al momento della distribuzione. Accidenti! Sono in possesso di attrezzature tecnologiche della produzione! Abbiamo poco tempo prima dell'immissione del segnale! Dimmi, dimmi! Sì, ma cosa fondamentale? È che gran parte del ricavato andrà sotto sprizione per Radio Onda Rossa! Ma che trasmette sugli 87,850 fino a Plutone! Eh, eh, già! È fantastica! Da vent'anni ormai, eh! Cazzo! Hanno trovato un sistema di collegamento! Alternativa al nostro! Eh, testina! Bisogna eliminare allora! Fate fuoco! Allarme rosso! Allarme rosso! Il mercato si sta attaccando, capitano! Facciamo i rappesi! Caricare i lanciatiruri! Preparatevi a sparare a mio ordine! Capitano! Tiruro a potore! Sì, signore! Cazzo che importa che gli abbiamo dato! Li abbiamo paralizzati per un'ora e mezzo! Abbiamo le frequenze libere! Preparatevi a ricevere il nostro segnale! Papa, che flash!